Marco, mi dispiace un'altra volta, però l'Arezzo ha fatto una grande partita, ha fatto una squadra importante, non a caso era su in cima, che ha messo anche una vigoria fisica importante, come te. Hai giocato una partita, secondo me, da ex, oltre che da gran giocatore, quindi ti faccio i complimenti come a tutta la squadra, però ecco, cosa è mancato in quei dieci minuti in cui loro veramente eravamo corto di fiato, in undici contro dieci non siamo riusciti a tirarci fuori. Sì, è un peccato perché dieci minuti hanno condizionato poi l'intera partita, c'è stato un ottimo approccio, un ottimo primo tempo, abbiamo messo tanto carattere, tanto agonismo, che cose magari può essere mancate in certe partite, quindi quello è fondamentale, deve essere la base di partenza e non devono essere solo parole, quindi lo stiamo dimostrando, l'abbiamo dimostrato in queste ultime due partite con i fatti. È un peccato perché i primi dieci minuti del secondo tempo abbiamo perso un po' le distanze in campo, con visti i cambi loro c'è stato un po' un leggero cambiamento di modulo che ci ha un po' scombussolato. Poi in questi momenti qua, quando non ti gira bene, prendi gol sull'unico calcio piazzato importante battuto da loro e poi dopo è difficile perché comunque l'entella è una squadra che fa fatica a prendere gol, sia su palla inattiva sia con palla a terra durante la costruzione di gioco, quindi ci hanno un po' imbrigliato, saremmo dovuti essere un po' più bravi a trovare meglio le distanze inizio-secondo tempo per poi sfruttare sicuramente gli spazi che ci avrebbero concesso perché loro a quel punto si sarebbero un po' aperti e con i nostri cambi, con le nostre qualità avremmo sicuramente portato a casa il risultato. Però la base di partenza è che bisogna ripartire dal primo tempo e poi recuperare l'energia perché c'è stato il turno intrasettimanale, quindi ci concentriamo sulla partita di lunedì. Parto dalla rissa finale, per dire che l'entella stasera l'ha messa sul piano della grinta, troppa grinta, della cattiveria, troppa cattiveria, e ha cercato quello che voi, voi non siete caduti nel tranello, però molte volte c'era, specialmente con Pattarello preso di mira, c'era questa voglia loro di fare nervosire la squadra per non farla giocare. Sì, giustamente loro hanno cercato di buttarlo un po' sul nervosismo, sulla cattiveria per cercare di pareggiare l'inferiorità numerica. Noi siamo stati bravi a non cadere in provocazione, poi ovviamente secondo tempo con l'entrata di Pattarello sotto la panchina era il principale soggetto beccato dalla panchina, quindi c'è stato un po' di parapiglia finale, ma si è risolto subito con nulla di che per fortuna per noi, perché non è stato neamunito, non credo ci siano provvedimenti disciplinari per nessuno dei nostri, quindi quello è importante, perché altrimenti sarebbero persi dei giocatori per delle cavolate, quindi veramente in maniera stupida. Siamo stati bravi ad approcciare la gara, a metterla sul piano dell'agonismo e alla fine loro sono caduti in questo tranello un po' di nervosismo che li ha portati a giocare con un uomo in meno, però non siamo riusciti a sfruttare al meglio questa superiorità. Sei d'accordo, come diceva anche il mio collega, che è stato uno dei più bei primi tempi dell'Arezzo questo? Sì, sicuramente, è evidente in queste ultime due partite un'intensità, una cattiveria, un approccio totalmente diverso, e questo deve essere la base di partenza, perché la Serie C, la Lega Pro si basa su quello, prima bisogna mettere l'agonismo e poi dopo spuntano le nostre qualità tecniche e tattiche, perché comunque giocare bene le partite non vuol dire per forza costruire da dietro, oppure andare in avanti e giocare sulle seconde palle, perché comunque le qualità, se uno è capace e le distanze sono giuste, la partita comunque la giochi bene in entrambi i modi. Poi appena perdi un po' le distanze, come è successo nel secondo tempo, l'abilità e la capacità delle altre squadre viene fuori. Dobbiamo cercare di limitare quel momento di difficoltà a veramente pochi minuti per cercare di evitare di subire queste occasioni. Magari si poteva anche raddoppiare, diciamo così, non siamo stati cinici in qualche occasione. E poi voglio dire questo, al di là di tutto, vedo un Arezzo diverso in campo, cioè un Arezzo che forse ha tenuto meno palla, ma molto più aggressivo, molto più verticale, finché almeno è durata la condizione fisica, perché poi alcuni dei più bravi sono dovuti uscire dal campo, io credo anche perché avevano speso molto. Sì, come hai detto tu, è stata una scelta quella di sfruttare più la verticalità delle giocate e un po' meno, leggermente meno, il possesso palla a partire da dietro. Ma come ho detto prima, abbiamo le qualità per alternare i modi di giocare. Poi un po' di fatica, dovuta anche al turno infrasettimanale di Coppa, è normale che venisse fuori. Loro comunque, non avendo giocato la Coppa, erano più freschi, comunque l'avevano preparata a livello fisico con più energie, ma non è stato sicuramente quello, perché comunque in secondo tempo sono entrati dei giocatori nostri altrettanto freschi e qualitativi. Però come ho detto, è più difficile far gol a lentella e stasera l'hanno dimostrato. Non ci hanno concesso veramente poco, dovevamo essere più bravi a sfruttare qualche minima occasione che ci è capitata. Grazie a voi.